Un ben trovato a tutti a questo incontro di cinema e psichiatria, questa serie è pensata per rappresentarvi attraverso dei film aspetti di psicopatologia, di disturbi psichiatrici ma anche di singoli sintomi. Il cinema è molto utile da questo punto di vista e rappresenta storie che sono molto istruttive e quindi anche molto didattiche, d'altra parte utilizzo questo strumento nella mia attività didattica. Oggi vi parlerò del panico, del disturbo panico. In un'altra occasione vi ho parlato del disturbo d'ansia generalizzata, in un'altra occasione ancora di insonnia e altri sintomi che possono in qualche maniera essere correlati tra di loro. Il panico che cos'è? Il panico è una sensazione acuta e intensa di ansia improvvisa, che insorge improvvisamente e che la persona non è spesso in grado di controllare. Il motivo per cui insorge, le cause possono essere le più varie, situazioni caratterizzate da grande stress, diagnosi in fausta improvvisamente dette, inaspettate, lutti, traumi eccetera. Le cause possono essere le più varie. La caratterizzazione è quella del fatto che c'è un inizio improvviso. E cosa succede? Succede che la persona non è in grado di controllare la situazione. Le sensazioni sono quelle della sensazione di morire o della paura di poter morire, oppure di impazzire, oppure c'è anche una perdita del controllo degli sfinteri, una caduta a terra, uno svenimento. Altre volte accade che ci sia una fuga, una fuga disordinata. Diciamo che ci sono tutta questa serie di sintomi che insorgono, che sono anche di tipo fisico, che sono per esempio dolore cardiaco, vampata di calore, tremori, aumento improvviso della sudorazione, sensazione di soffocamento, difficoltà a respirare, fame d'aria, cosiddetta. C'è questo respiro ampio e affannoso per cercare di recuperare d'aria come se ci fosse la sensazione di poter soffocare, aumento dei debattiti cardiaci, vertigini e svenimenti. Ora, perché questo accade? C'è una teoria, un'ipotesi, peraltro suffragata da dati anche sperimentali, in cui si fanno delle analogie anche rispetto a degli esperimenti animali. Allora, se c'è un pericolo e l'ansia si genera a seguito di questo pericolo, il punto è quanto è distante questo pericolo. Allora, se il pericolo è a una certa distanza o risiede in qualche maniera dentro di sé, perché si rifà anche esperienze passate, ma non c'è un pericolo immediato, si genera proprio quella che è l'ansia e il disturbo d'ansia generalizzato. Se invece il pericolo è più vicino e quindi è anche localizzabile, si generano quei disturbi che sono i disturbi fobici, cioè una persona evita quelle situazioni in cui si potrebbe trovare in situazione di pericolo e quindi di ansia intensa, e quindi sta lontano dalla situazione pericolosa, e quindi sono quelli che sono i disturbi fobici. Magari ve ne parlo appunto in un'altra occasione. E invece c'è la terza situazione in cui il pericolo è così vicino, così inaspettato, così prorompente, che la persona non è in grado semplicemente di affrontarla e quindi si genera il panico. Questa sensazione acuta, d'ansia, angosciosa, in cui non c'è la capacità di fare fronte, ecco questo è il disturbo di panico. Poi ci sono stati descritti, in funzione della sintomatologia prevalente, anche alcuni sottotipi di panico, quelli con manifestazione maggiore di tipo cardiaco, o con manifestazione invece di tipo respiratorio, fame d'aria di cui vi parlavo prima, oppure gastrointestinale con sensazione di difficoltà e di dolore anche a livello degli organi addominali, oppure anche di tipo vestibolare, cioè con perdita dell'equilibrio. Ecco, forse quello più descritto, anzi quello più descritto sicuramente, più studiato è quello che riguarda, è la tipologia con la difficoltà a respirare, questo respiro affannoso. Bene, detto tutto questo, entro nel vivo del cinema, ci sono alcuni film che a me vengono in mente, che descrivono, che sceneggiano, che mettono in scena gli attacchi di panico e sono alcuni noti, altri meno noti, c'è Un'anno a primavera che era molto didascali, che è un film italiano della Rai, ma un thriller, copycat, non di grande qualità, però insomma con Sigurni Weeweer, che è una investigatrice competente, ma che ha degli attacchi di panico, questo è molto istruttivo, questo film proprio perché fa vedere come avviene un attacco di panico e come attraverso il mettersi un sacchetto del pane, quindi sul piano respiratorio, viene a controllare, essere controllato lo stesso attacco di panico. Poi ci sono altri film, c'è un film francese, così cantato, divertente, che è parole, 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 ma poi c'è un altro film, terapie pallottole, in cui c'è il boss della malavita, dell'americano, che sviluppa appunto attacchi di panico. E poi ci sono altri film, c'è il storico, il giorno di terrore, Lady in a Cage, con Olivia de Avilland in un ascensore, o Silvio Orlando, ecco un'altra rappresentazione, Silvio Orlando, in un attacco di panico nel film Fuori dal mondo. Ma io vi parlo di un altro film, che è un film splendido, molto più recente, un film di Nanni Moretti, a Bemus Papam. A Bemus Papam è un film bellissimo da un punto di vista, non solo della qualità del film, ma anche da un punto di vista didattico. Beh, innanzitutto c'è Michel Piccoli, Piccoli è purtroppo mancato pochissimi anni fa, ha dato una rappresentazione di questo Papa in crisi. Il Papa, c'è il conclave, la storia è questa, c'è il conclave a Roma per eleggere il nuovo Papa, dopo una serie di elezioni andate a vuoto, viene inaspettatamente indicato il Papa, il Cardinale Melville, che è appunto rappresentato da Michel Piccoli, che come futuro Papa. Lui non se l'aspetta, non se l'aspettava, e quindi ricordiamoci appunto questo evento che avviene improvvisamente, a cui uno non è pronto, a cui non è pronto ad affrontare, e quindi viene portato, poi quello che avviene è la solita scena in cui c'è la proclamazione del Papa dal balcone, quindi c'è il Cardinale Protodiacono che dà, lui, ecco, c'è questa scena preliminare in cui il Papa è smarrito di fronte a tutto quello che sta succedendo, ha una fame d'aria, respira con difficoltà, ha una forte angoscia, perché tra poco sarà Papa, dovrà fare qualcosa, dovrà dire qualcosa, dovrà poi occuparsi della Chiesa, insomma, lui non si sente assolutamente pronto a questo compito, quindi chiede con ansia al Cardinale cosa devo fare, cosa mi sta succedendo, dice ai Cardinali attorno a lui aiutatemi, aiutatemi, e loro lo guardano smarrito, presumibilmente una serie di Cardinali che avrebbero fatto chissà cosa per essere loro eletti come Papa, insomma, invece c'è questo Cardinale che è assolutamente impreparato e quindi mentre il Cardinale esce sul balcone dicendo a Bemus Papam, lui lanciando un urlo, il Cardinale nella stanza dietro appunto, lanciando un urlo, si lancia fuori dalla stanza, si lancia fuori dalla stanza e scompare nei corridoi e nelle stanze del Vaticano, quindi di fronte a questo angoscia, a questo attacco di panico forte, come reagisce? Certamente con un sintomo tipo fisico, ma poi con la fuga, quindi è una delle reazioni possibili di fronte a questa angoscia intensissima. La storia poi prosegue, perché lui viene, tutto si blocca, tutto si ferma, lui rimane in Vaticano, ma tutti gli altri Cardinali devono restare, perché è previsto che sia così, all'interno del Vaticano. viene convocato un analista che è Nanni Moretti, c'è un po' questo analista anche un po' divertente, un po' parodiato anche da Nanni Moretti, c'è questa scena in cui lui dovrebbe fare una visita, come dire, anche un po' intima, diciamo, in cui viene fuori gli aspetti più profondi del Cardinale, ma in realtà non la può fare con lui da solo, ci trovano solo tutti i Cardinali attorno, quindi non si risolve niente, lui dà un'indicazione, l'analista, di rivolgersi ad un'analista esterna, che poi è una sua ex, e tutti i Cardinali rimangono all'interno del Vaticano e anche l'analista deve rimanere a quel punto all'interno del Vaticano, quindi poi si passano il tempo giocando. C'è anche una scena molto interessante sull'uso degli psicofarmaci, dei diversi Cardinali, quindi anche questa ha un suo significato, è molto divertente, ma istruttiva, densa di riflessioni. Però il Papa poi viene portato fuori da un altro Cardinale, che è poi responsabile della sicurezza, però lui fugge, poi va da quest'analista, lei gli dice, ma forse per me c'è un deficit di accudimento, da cui emerge questo suo sentimento, sensazione di insufficienza, legata forse ad una competitività con la sua sorella, quindi risale a tanto tempo prima. Bene, insomma, alla fine tutto questo si, insomma lui, lui, va in fuga, va in giro per la città, cerca conforto anche, ovviamente nessuno lo conosce, insomma, quindi non viene ascoltato, non viene badato, insomma alla fine lo recuperano, lo recuperano, e a quel punto anche perché è passato ormai anche un certo tempo, quindi un certo tipo di riflessione ha potuto avvenire, cioè la distanza non era più così immediata rispetto al pericolo, insomma un certo pensiero lui se lo è fatto e quindi viene riportato nella stessa situazione perché la procedura prevede che le cose siano così, si ripresenta, si ripresenta al balcone, quindi viene presentato al cardinale, si presenta al balcone, ma a questo punto può fare il grande rifiuto e lo può fare dicendolo, cioè quindi non più esprimendolo su un piano corporeo, fisico, fisiologico, ma potendo dire, guardate ragazzi, io non ce la faccio, non ce la faccio, non sono in grado di farcela e quindi rinuncia. Ora, tutto questo è stato anche visto come una visionarietà da parte di Moretti sulla crisi della Chiesa, analogie con Benedetto XVI, che dopo qualche anno ha rinunciato al suo papato, ma in realtà la situazione è molto diversa, insomma Benedetto XVI ha rinunciato perché non si è sentito con le forze in grado di proseguire, qui c'è proprio l'angoscia iniziale, la sensazione di non essere in grado di farcela. Ed è, c'è una bella frase, una bella frase che il cardinale, a quel momento nascosto, cioè non palesato, lo dice alla sua analista, dice, è come se avessi la testa troppo piena, ma non so di cosa, è una sorta di sinusite psichica. E questa la trovo molto bella, cioè uno stato di confusione, che esprime molto bene come si può sentire una persona in situazione di angoscia di questo tipo. Bene, vi ringrazio per essere stati qui, per ascoltarmi su questi incontri e vi rimando a uno dei prossimi. Arrivederci.